103.700 euro e questa la folle ed esorbitante cifra necessaria a garantire per un anno la carta da fotocopie all'ASREM, l'azienda sanitaria regionale. 103.700 euro, IVA compresa, che equivalgono alla stratosferica quantità di 64.500 fogli consumati ogni giorno. Il conto è presto fatto ed è quello che viene fuori dagli stessi dati regionali che stabiliscono il costo di una risma di carta formato a 4 in euro, 2,20, secondo quanto stabilito dall'autorità nazionale anticorruzione. Basta una calcolatrice semplice e senza pretese di quelle che stanno dentro alle uova di Pasqua per fare un rapido calcolo, dividendo la cifra annuale messa in palio per i 365 giorni dell'anno. La spesa giornaliera complessiva che viene fuori è di 284 euro, che divisi ancora per il costo di una risma di carta, 2,20 euro, fanno la bellezza di 129 risme al giorno, che, moltiplicate per 500, ovvero il numero dei fogli contenuti in ciascuna risma, restituisce il dato incredibile di 64.500 fogli consumati ogni giorno. Per sicurezza abbiamo rifatto più volte il calcolo e nemmeno da soli, per evitare gli effetti allucinogeni che lo stupefacente Molise è in grado di provocare, ma il numeretto finale rimane sempre lo stesso, 64.500 fogli al giorno. Le considerazioni da fare sono pochissime, limitate al numero di due. La seconda riguarda l'uso a cui sono destinati i fogli di carta in questione, vivendo in una regione dove negli ospedali scarseggia anche la carta igienica, che molti malati sono costretti a portare da casa, e vivendo sempre nella stessa regione, dove invece abbonda la carta per le scartoffie degli uffici dell'ASREM. La prima delle considerazioni invece riguarda la politica di lacrime, sangue e tagli imposta ai propri corregionali dal presidente della regione Molise e commissario ad acta per la sanità, Paolo Di Laura Frattura. Chiudono gli ospedali, si riducono i servizi per cittadini e malati, si taglia tutto e il contrario di tutto, è persino la fornitura di pannoloni destinata ad anziani e disabili, ma quando si tratta di trattare gli sprechi della burocrazia regionale non si arretra nemmeno di un millimetro. Il Molise, a dispetto dei suoi detrattori, esiste. Esiste come? Peccato che esista per una serie di primati di cui non può certo andare fiero. Record come questo, che possiamo serenamente battezzare come il record della carta straccia.